Una serata sotto il segno del tango e di Astor Piazzolla. Il Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana ha ospitato il Tango di Ieri e Piazzolla, evento organizzato dalla Fondazione intitolata al Maestro, insieme all'Unione dei Comuni e al Parco Nazionale dell'Appennino. Un viaggio nell'evoluzione del tango che ha visto protagonisti quattro ballerini, Claudio Jurman e Carina Filomena, Pablo del Duchetto e Fabiana Fusaro, accompagnati dal quartetto Lo che vendrà. La famiglia è nata qui, in Italia, e siamo orgogliossissimi noi di rappresentarlo di questa maniera perché la sua musica racconta questa storia, racconta le storie della sua famiglia, racconta la felicità, la tristezza, la gioia di vivere, anche il mangiare, tutto. Tutto sta condensato, quando uno ascolta la musica di Piazzolla, in una sola frase musicale. Al termine della serata c'è stato spazio anche per salutare gli studenti del progetto SCORE. Alcuni di loro andranno proprio in Argentina, per vivere un interessante periodo di stage.